Come secondo esercizio sfrutterò questa magnifica grip che io di solito non ho nella mia palestra e mi dà un feeling pazzesco dove farò un top set da 8 ripetizioni e successivamente due back off calando il carico del 10-15% e sempre da 8-10 ripetizioni. Ovviamente per ritrovare il mio top set farò due-tre serie di avvicinamento per capire, innanzitutto per prendere confidenza inizialmente con l'esercizio ma per capire bene qual è il mio 8 RM. Un po' lungerino, iniziamo un pochetto. Ultima della prossima inizio, aumento un pochino e iniziamo il top set da 8. Come vi dicevo sono una bichinia tipica, io non amo lavorare le gambe ma amo lavorare il dorso. Buono. Forse posso aumentare un pochino e un più. Che dite, ci proviamo? Proviamo sti cinquantine di chili, vediamo se riesca a calzare il mio peso. Dai proviamoci. Alle brutte lo so che apprezzerete il tentativo. Buono. Aspetta. Oh. 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 questa andava per sentire ci stava ci stava ok adesso due back off caliamo di 10 15 per cento il carico e andiamo sempre su 8 10 reps però soddisfatto di averci trovato mi sembra aria dopo 50 kg pronti per il prossimo